Riflettori sempre puntati sull'emergenza Covid. A fronte dell'aumento dei contagi ad essere registrate sono state delle vere e proprie corse ai vaccini e ai tamponi. Boom di terze dosi, incremento delle prime e aumento esponenziale di tamponi. Ad essere fornito attraverso un comunicato stampa dell'ufficio del commissario ad acta per l'emergenza Covid-19, area metropolitana di Catania, un riepilogo relativo ai dati registrati nei primi tre giorni della settimana. Somministrati presso l'Hub di San Giuseppe Larena oltre 3.500 vaccini, più di 2.800 ad Acireale, oltre 600 presso il punto vaccinale allestito al piano terra del Palazzo Comunale a Catania. Per quello che concerne i tamponi è registrata una vere e propria impennata nei due drive-in di Catania e Acireale in tre giorni oltre 9.000 tamponi. La percentuale di positivi risulta essere pari a circa il 10%. Tenuto conto dell'aumento delle richieste di vaccinazione, è stato dunque deciso di tenere aperti i punti vaccinali anche nei giorni festivi. Nessuno stop dunque per la giornata di Capodanno e nessun orario ridotto alla vigilia. In sovraimpressione il riepilogo relativo agli orari che in questi giorni festivi saranno osservati presso gli hub e i drive-in. Per quello che riguarda i tamponi, tenuto conto anche in questo caso dell'aumento delle richieste, in alcuni comuni, d'intesa con i sindaci, saranno presenti dei drive-in temporanei. L'attivazione è prevista in vari step, si attendono aggiornamenti in merito. Resterà operativo fino al 31 di gennaio con orario continuato dalle 9 alle 18 e il punto vaccinale al comune di Catania. Così come dichiarato dal commissario per l'emergenza Covid, area metropolitana di Catania, Pino Liberti, le decisioni su input della Presidenza della Regione Siciliana e dell'Assessorato della Salute hanno l'obiettivo di facilitare la vaccinazione, ridurre i tempi di attesa sia per i vaccini che per i tamponi e attraverso il tracciamento monitorare e mitigare l'impatto della nuova variante.